Vuoi che andiamo a fare la prossima volta? Se vuoi. Si. Ok. In realtà. Sì. Ormai quando... Noi siamo più pronti, quindi non parto. Ah. Sarà il buio. Sarà il buio. È il buio. Io lo raccomando a lui. Sì. Vi direi, parte la musica. Sì. Come partono le luci? Certo. Qui... Noi vedremo, dopo vedrai. Parte una cosa. Noi si existia. Si existia. Si existia in modalità. Com? all Norma intenzione. Senyora. Anche, Cristina, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.